e adesso torno al lavoro che stavo inserendo per farvi vedere come si inseriscono le dispersioni vere e proprie come vedete c'è il nodo piani che attualmente non ha nessun piano definito allora con un clic destro vado a creare un nuovo piano naturalmente posso creare il piano interrato piano terra, piano prima eccetera quanti ne voglio posso creare anche un unico piano non è necessario creare tutti diciamo che poi per l'applicativo CAD sarà bene avere i vari piani perché allora in CAD normalmente ho le piante ogni pianta ha i suoi locali e quindi lì sarà conveniente avere tutti i piani ma ai fini poi dell'inserimento se uso un inserimento tabellare posso anche creare un unico piano che è il piano terra, piano unico piano come volete definirlo questo qua creerò comunque il piano terra in questo momento vedete che provano di chiedersi sia l'altezza netta che l'altezza lorda perché queste servono poi per il CAD per calcolare i volumi da CAD diciamo direttamente quindi qua ho messo mettiamo 2,70 per esempio come altezza netta e altezza lorda 3 metri e 30 a questo punto sono pronto per inserire i locali vedete che con un clic destro del mouse sul piano posso creare un nuovo locale e cominciare a inserire i dati anche qua si è liberi di inserire un unico grande locale oppure tutti i locali veri e propri che costituiscono l'edificio da verificare non voglio anche qua dilungarmi sapete solamente che a seconda di cosa volete ottenere potete semplificare il lavoro se riguarda un edificio esistente perché è inutile inserire anche le dispersioni fra un locale riscaldato e un altro locale riscaldato perché comunque poi queste non vengono non danno nessuna dispersione diciamo calcolo di energia ai fini pratici diciamo che per i nuovi edifici è richiesto comunque l'inserimento anche di queste pareti per calcolare il loro contributo nell'inerzia termica dell'edificio mentre per quelli esistenti è possibile attivare un calcolo semplificato che che dopo vi farò vedere diciamo che il programma qua vi chiede di inserire il volume lordo e il volume netto se noi volessimo per esempio inserire un edificio che dopo andremo a vedere anche nel CAD diciamo che qua come volume lordo possiamo inserire già le misure per esempio 13 metri e 30 per 7,60 per 6 metri di altezza quando abbandono il campo il programma mi calcola già vedete il volume lordo e per il volume netto posso ancora inserire delle misure oppure posso ricorrere ai coefficienti di normativa nuova costruzione vecchia costruzione e così via o comunque siete liberi di scrivere quello che preferite adesso qua andrò anche a modificare il nome del nodo scriverò appartamento perché adesso non starò qui a inserire tutte le varie vari locali inserisco uno solo per farvi vedere velocemente lo scopo della dimostrazione non è quello di far vedere filo per segno tutto l'iter ma è quello di inserire un edificio di esempio velocemente vedete che ho selezionato qui ho a disposizione l'elenco di tutte le strutture che ho in questo lavoro seleziono la struttura che voglio mettere in dispersione che adesso sto adottando il metodo di inserimento diciamo tabellare quindi numerico scelgo la struttura indico la dispersione l'esposizione nord nord est qua ci sono tutte le dispersioni possibili parliamo fra poco anche di ombreggiatura però nel momento la saltiamo e qua inserisco la superficie mettiamo che io devo inserire una superficie magari per agevolare il lavoro faccio già un piccolo anticipo sul card dopo magari lo vediamo meglio ma qui andiamo a vedere per esempio un lavoro ecco qua questo è per esempio un edificio che io voglio inserire voglio inserire la parete nord che può essere quella che vediamo qui davanti quella qui a destra o quella sul retro e per inserire questa parete torniamo al programma vado qui inserisco la superficie magari se qua abbiamo 13 e 30 per 6 metri di altezza questa è la superficie che il programma mi va a calcolare tramite le misure quindi sono agevolato nel fatto che posso inserire appunto delle formule di calcolo naturalmente qua vedete che c'è una casella a discesa che mi permette di impostare il percentuale ponte termico per gli edifici esistenti i ponti termici possono essere calcolati a percentuale quindi se devo fare questo tipo di calcolo basta andare a associare il tipo di ponte termico altrimenti qui sotto abbiamo i ponti termici veri e propri che posso inserire numericamente ma dicevamo abbiamo inserito la nostra parete nord e andiamo qui sotto a inserire i fori prima abbiamo già visto che in questo lavoro noi ci siamo creati portati i fori vado a selezionare il tipo di fori che voglio considerare per esempio questo qua dico quanti sono di questo tipo sono due perché in quella facciata sono due sono quattro eccetera e vado a inserire gli altri dati e confermo il tutto adesso vediamo quali sono questi altri dati però prima volevo occuparmi anche delle ombreggiature che in questo momento abbiamo un po' diciamo un po' un po' che che un po' l'unico